Abbiamo discusso della necessità di rifinanziare le politiche di coesione. L'Europa ha due piste politiche fondamentali che dovrebbero intricciarsi. Il mercato, la concorrenza, la circolazione delle merci, dei capitali e poi accanto a questo, anche per riparare gli effetti che tutto questo produce, le politiche di coesione e anche le politiche dello sviluppo di qualità. Purtroppo nei periodi di crisi si dovrebbe aumentare queste politiche, invece si è fatto il contrario, si è passati dall'1,2 del PIL allo 0,9. Adesso si pone un problema serio con l'uscita della Gran Bretagna che conferiva qualcosa come 11 miliardi all'anno riprendendone circa la metà. Quindi c'è un problema molto serio. Da un lato di discutere i contenuti delle nuove politiche di coesione dal 2020 in poi e dall'altro capire anche come rimediare alle risorse che sono necessarie per rilanciare queste politiche, soprattutto per far fronte alla crisi, per far fronte ai bisogni anche di sviluppo delle imprese nel settore della ricerca, dell'innovazione e poi anche le politiche sociali, le politiche della formazione, le politiche del sostegno ai più giovani, ai citi più deboli.